Andrea Cappelletti, dopo due risultati utili, è arrivata questa sconfitta. Sì, è un rammarico per i primi 10-15 minuti, dove abbiamo capito poco. Loro ci hanno puniti e poi è normale che contro la Capolista, che ha dimostrato di avere molta qualità specialmente fagio-offensiva, abbiamo sofferto un po', però abbiamo avuto anche le nostre occasioni per portare a casa almeno un punto. C'è un rammarico, però la strada è quella giusta, quella del sacrificio, quella di giocare 95 minuti con il cuore. Adesso ricarichiamo le pile in questi 15 giorni, perché poi avremo due partite fondamentali con un volo in locarlo. Ecco, dicevi che i ma sono quelle fondamentali in questo momento. Sì, ovvio non sono decisive perché mancano 20 partite, però con il volo in casa c'è da fare il risultato. E poi abbiamo il locarlo, che comunque lo considero un altro scontro diretto. Nella partita di oggi forse la difenza si è vista anche su questo campo, cioè loro sbagliavano meno passaggi, riuscivano a arrivare prima sui palloni. Forse un po' in quello. Se loro sono primi in classifica, l'hanno dimostrato oggi, hanno molta qualità. Da centrocampi in su sono veramente una squadra molto molto forte. Noi abbiamo fatto del nostro meglio, ci siamo difesi con ordine, abbiamo rischiato perché è normale rischiare contro di loro. Niente, sulla testa e andiamo avanti a lavorare. Sì, questa sconfitta comunque non è grave, possiamo dire, come quella di Vole, no? Altre che ci hanno buttato giù. I tre punti c'erano qua, come c'erano in paglia Vole, in ogni partita è importante. È normale che Vole in uno scontro diretto e pesa il doppio. Niente, ripeto, alleniamoci bene questi 15 giorni, recuperiamo un po' di acciacchi e carichi per il Vole.